Ecma 2021 il nostro brand and breakfast fa tappa allo stand di Italjet dove abbiamo parlato con Massimo Tartarini presidente di Italjet per quanto riguarda le novità che hanno portato la Kermess milanese ma anche di elettrico e di tecnologia. Italjet è oggi presente in Ecma con il nuovo Dragster 125 e 200 che si rifà al modello degli anni 90 che è stato un successo in tutto il mondo. Abbiamo avuto un enorme successo fin dall'inizio della presentazione nel 2018, oggi finalmente è in produzione dopo aver superato quelli che sono stati i problemi dovuti al Covid quindi abbiamo avuto ritardi nella messa in produzione con tutti i nostri fan veramente impazienti di ricevere il loro nuovo Dragster ma oggi finalmente Italjet si presenta in Ecma con il nuovo Dragster già in pronta consegna in tutto il mondo, abbiamo vendite in 40 paesi in tutto il mondo ed è un modello che esce completamente dalle righe perché è uno scooter che è stato studiato per ridare emozione al nostro cliente per avere la massima sportività e i piaceri di guida sempre guardando la sportività del prodotto. È un prodotto che si differenzia da tutti gli altri in quanto monta una forcella monobraccio studiata da Italjet e brevettata nel 1995 con il vecchio Dragster e ripresa tecnicamente oggi. Il Dragster ha un telaio a traliccio, è l'unico scooter al mondo con un telaio a traliccio, monta motore 125-200 e ci stiamo adesso approcciando anche al veicolo, al Dragster elettrico che sarà in consegna nella seconda metà del 2022 con prestazioni super perché avrà un motore a 11 kilowatt con un cambio sequenziale con prestazioni al topo. Il Dragster elettrico praticamente avrà la stessa ciclistica del Dragster con motore endotermico però sarà dotato di un propulsore a 11 kilowatt con un cambio automatico per dare le massime prestazioni nell'accelerazione e nella guidabilità. È una tecnologia innovativa dove Italjet sta puntando molto e avremo un veicolo che sarà molto performante sia nella durata della percorabilità sia nelle prestazioni. Queste le parole dei protagonisti di EICMA 2021. Se non volete perdervi nessuna delle novità della Kermess milanese e le interviste seguiteci sul nostro canale YouTube, sui nostri canali social ma soprattutto sullo sito www.motorbox.com Grazie